Eccoci qui, buongiorno amici followers, bentornati sul canale. Video di oggi, andiamo a vedere quando comprare un'azione e quando non comprare un'azione. In particolare andiamo a vedere quali elementi, quali aspetti deve guardare, controllare un investitore prima di decidere di acquistare un titolo e che gli fanno dire ok, quel titolo è interessante, quel titolo è buono, può portarmi dei ritorni importanti, e quali invece aspetti deve controllare, e che gli devono fare da campanello d'allarme per dirgli ok, quel titolo adesso ti sembra interessante, ma in realtà non lo è così tanto, è meglio evitare di comprare, è meglio lasciarlo al mercato, non ci interessa. Quindi andiamo a vedere un po' tutti questi elementi, quali aspetti proprio sono da prendere in considerazione. Tengo a precisare che in questo video mi concentro su azioni da tenere nel lungo termine, quindi investimenti 5, 10, 15 anni, non sto parlando di operazioni speculative di 2, 3, 4, 6 mesi, sto parlando proprio di investimenti a lungo termine, quindi quelle attenzioni da avere per selezionare un titolo da mettere nei nostri 10, 15 titoli da portare poi dopo nel lungo termine. Quindi partiamo, faccio questo video proprio perché, dato che un portafoglio a lungo termine ha pochi titoli al suo interno, bisogna sceglierli con grande, grande accuratezza. Quindi andiamo a vedere prima quando non comprare e poi quando comprare. Allora partiamo dal quando non comprare, ma prima, come sempre, un bel like di supporto se questi contenuti vi piacciono e poi dopo mi fate sapere anche il vostro parere su tutto quello che vedremo all'interno del video qua sotto nei commenti. Detto ciò, partiamo subito quando non comprare. Allora, secondo me, il momento in cui un investitore deve dire non compro, evito di comprare, la prima cosa a guardare è quando il rapporto PE è superiore a 25. Se state prendendo un titolo da mettere nel portafoglio a lungo termine, in quel momento il rapporto PE è superiore a 25 non è un buon momento per metterlo in portafoglio. Ad esempio, per me, invidia in questo momento con un rapporto PE di 75, 68, non lo andrei mai e poi mai a mettere nel mio portafoglio di lungo termine. Perché statisticamente, statisticamente, aziende che hanno un rapporto PE molto superiore a 25-30 performano poco nei 5-10 anni successivi. Perché è vero, invidia sta facendo molto bene, è cresciuta tanto e sta ottenendo delle trimestrali con dei risultati incredibili. La crescita è importante, ma riuscirà nel 2024 a fare molto più di 30 billion di utili? Non possiamo saperlo, è difficile da dire. E, soprattutto, è possibile che nel 2025 mi faccia 90 billion di utili? È possibile che nel 2026 mi faccia 100 billion di utili? Eh, signori, è difficile. Magari si stabilizza sui 30 billion. E quindi, nel lungo termine, invidia potrebbe iniziare a creare un movimento laterale o comunque le performance che potrebbe avere potrebbero essere inferiori a quelle del mercato. Quindi, io cerco un rapporto PE solitamente basso, un'azienda che non viene sopravvalutata troppo dal mercato, dove le aspettative su utili e fatturati non siano esagerate e che non siano troppo alte. In questo modo, è vero, invidia è sicuramente un buon titolo, ma quello che mi devo chiedere io, in ottica di lungo termine, quelle azioni sono effettivamente, cioè il prezzo delle azioni, quanto già sta scontando il fatto che invidia sia un'ottima azienda, magari la sta addirittura sopravvalutando, no? E il rapporto PE di 75 me lo dice. Quindi, se il rapporto PE è superiore a 25, io il titolo non lo metto nel portafoglio di lungo termine. Cerco sempre di aspettare un momento in cui il rapporto PE sia inferiore a 25 o comunque in quell'area. Tengo a ricordare che poi dopo 25 è un numero che riguarda un po' tutti i settori, in realtà poi dopo dipenderebbe da settore a settore, ci sono settori con rapporto PE e medi più bassi, settori con rapporto PE e medi più alti, però ci vorrebbe un video intero solo per questo, di conseguenza teniamo 25 giusto per dare un'idea. Sopra 25 evitare, questo è quello che faccio io. Poi, ancora, quando la capitalizzazione è sotto i 10 billion, questa è la seconda cosa da guardare. Cioè, io non vado a prendere, dato che sono un piccolo investitore, non vado a prendere nel mio portafoglio titoli che hanno una capitalizzazione di 2-3 billion, perché nel lungo termine non so come possono andare, potrebbero addirittura fallire. Dato che ne devo scegliere 10 di aziende, vado a scegliere aziende con capitalizzazioni un po' più alte. Vado a prendere aziende grosse. Ad esempio, in una titolata, nell'ultima, abbiamo guardato questo titolo che si chiama Imsen Hears. Allora, questo ti torna la capitalizzazione di 3-48 billion. Da un punto di vista del bilancio non sta neanche andando male, anzi, no? Vediamo che negli ultimi anni sta quasi arrivando ad avere un utile positivo. Però i movimenti di mercato, guardate se sono forti. Se io devo scegliere 10 titoli e ho un'azienda bassa capitalizzazione che mi fa dei movimenti di questo tipo, io ho il portafoglio che balla troppo per essere un portafoglio di lungo termine. Devo avere titoli anche che mi diano una certa stabilità. Ma non posso avere titoli di questo tipo. Un'azienda sotto i 10 billion è un'azienda troppo piccola. Addirittura sul lungo termine si potrebbero valutare aziende sempre sopra i 15-20 billion. Però, dandoci un livello 10 billion, secondo me, è il minimo sindacale per poter selezionare un titolo nel lungo termine. Altrimenti, tanto vale fare operazioni speculative e cercare qualcosa di quel tipo lì. Ma non andare sicuramente a fissare nel mio portafoglio un titolo quando è così piccolo. Perché io sono un piccolo investitore e non posso permettermi certe tipologie di scommesse. Detto ciò, ora, andiamo oltre. Quando non comprare? Quando gli utili iniziano a calare trimestre su trimestre. Perché, segnalo questa cosa che è importante, succede spesso che magari in casi come Pfizer si vede il titolo scendere e un investitore dice Ah, guarda, sta scendendo Pfizer, valeva 50, ora vale 40, ora vale 40, potrebbe essere interessante comprarlo. No? Beh, ma in realtà bisogna capire il perché sta scendendo Pfizer. Perché sta facendo così? Non è che il titolo nessuno lo vuole perché gli sta antipatico. Magari ci sono dei motivi, delle giustificazioni. E solitamente succede che trimestre su trimestre gli utili iniziano a calare rispetto all'anno precedente. Esempio, se noi guardiamo la discesa che ha avuto, proviamo a prendere il Q4 2022 rispetto al Q4 2023. Guardate, il Q4 2022 andava bene, il Q4 2023 non va più così bene. No? E poi dopo, se andassi a vedere anno su anno, possiamo vedere che tutto il 2023 è stato molto inferiore al 2022. Quindi se confrontassi anche Q1 2023, Q2 2023, Q3 2023, con le rispettive del 2022, vedrei proprio una struttura di utili e fatturati decrescenti. Lo posso capire chiaramente dal grafico anno su anno. Di conseguenza, anche questo è un elemento che mi fa dire Occhio, il titolo sta scendendo. Non è che ha sconto perché sta scendendo così. Sta scendendo perché c'è questa struttura di utili che sono decrescenti trimestre su trimestre. E finché non si ferma questa emorragia, non si può assolutamente andare a comprare. Perché l'azienda rischia effettivamente di fallire. Perché se non fa più soldi, lì rischia di fallire. Quindi, mi raccomando, attenzione anche a questa cosa. La sottolineo perché uno dice Ah, guarda, è sceso molto. È sceso molto perché? E se continua a non fare soldi, può scendere ancora di più. Fino a zero. Poi dopo non scende più. Poi dopo, altra cosa. Andiamo a vedere. Sperate che l'ho spostato. Ecco qua. Altro elemento da tenere in considerazione. Quando i flussi di cassa di attività operative calano trimestre su trimestre. Questo solitamente è in linea. Prendo sempre Pfizer come esempio. Potrei prendere anche altri titoli. Solitamente è in linea con ciò che accade con ciò che accade sulla parte utile, sulla parte conto economico. Ma non sempre. Non sempre. A volte può esserci un conto economico positivo e dei flussi di cassa in realtà negativi. Quindi da controllare anche questi. Qua su Pfizer si vede bene. Q4, 23 è molto inferiore a Q4, 22. E poi dopo vedete anche anno su anno c'è questa differenza. Quindi attenzione anche a questa cosa. Quindi questi due vanno a braccetto. Utili che calano trimestre su trimestre. Flussi di cassa che calano trimestre su trimestre. Quindi li sottolineo perché. Voi vedete il titolo scendere di Teo però guarda che bella occasione, guarda che bel momento per acquistare il titolo, per raggiungerlo al portafoglio. In realtà se c'è una struttura di questo tipo, quindi utili decrescenti, flussi di cassa, attività operativi decrescenti, bisogna rimanere assolutamente fuori. Perché al 90% continuerà a scendere. E non ha senso andare a cercare di conseguenza, e a sperare in dei miracoli. Poi andiamo ancora oltre. Quando il titolo diventa famoso. Questo importante, attenzione, attenzione. Quando il titolo diventa famoso è tremendo. Faccio un esempio, esempio Solar Edge. Titolo Solar Edge Technology, eccolo qua. Andiamo a vederlo. Questo titolo che me l'avete sempre segnalato in tanti, lo guardiamo spesso sul canale. Guardate che brutta botta che ha preso anche ieri. che l'avevamo detto, attenzione, potrebbe scendere ancora. Comunque, questo titolo era diventato famoso. Ne parlavano in tanti i youtuber, i media, e via dicendo, i giornali anche di finanza, i siti di finanza. Perché quando una cosa diventa famosa se ne parla. Ma in realtà non vale niente. Non vale niente Solar Edge. È un titolo destinato probabilmente a fallire. Adesso vi faccio vedere nuovamente la situazione di bilancio. Giusto per tornare a quello che dicevamo. Guardate, conto economico. Trimestre su trimestre che cala. Flusso di cassa di attività operative. Guardate, anno su anno che cala. Trimestre su trimestre, sempre peggio. Attaccandomi anche ai punti precedenti. Quindi, un titolo diventa famoso, non lo dovete comprare. Non lo dovete comprare. O l'avete scoperto voi, o l'avete scoperto tramite magari un'analisi fatta su YouTube. Ma in generale, mentre se ne facevano varie, si pare questo titolo, lo vedete, lo scoprite, per qualunque motivo è un conto. Ma se diventa famoso, se ne parlano tanti, assolutamente evitare. Il rischio di farsi, non male, malissimo, c'è perché poi dopo magari c'è un po' di hype, ma quello meno sul titolo, tutti comprano perché tanto buttarci due soldi non è un problema. Se voi invece l'avete messo nel portafoglio di lungo termine, invece per voi diventa un bel problema. Quindi evitare assolutamente. Poi dopo, quando il settore non è stabile, altro elemento importante, attenzione, settore non stabile. Quando voi comprate un titolo per il lungo termine, dovete valutare anche il settore. Perché se il settore non è stabile, se il settore rischia di avere dei problemi, avrà dei problemi, chiaramente anche il vostro titolo, la vostra azienda. Se le persone a quel tipo di prodotto di quel settore non interessa più, interessa poco, rischia veramente di farsi del male. Un investitore, ad esempio, qui eravamo sul, sto parlando di Beyond Meat, azienda che aveva anche questa, ha avuto un po' di hype, mi attacco sempre anche al discorso precedente. La capitalizzazione qua una volta era enorme. Guardate, un'azienda che oramai non vale più niente, un settore che si è dimostrato, il settore delle carni vegetali, un settore che doveva essere rivoluzionario, in realtà i consumatori non se lo filano più di tanto come settore, è un settore che mostra delle grosse difficoltà a esplodere. Ci si aspettava che il discorso della carne vegetale potesse esplodere sul mercato, in realtà ci sono dei consumatori interessati, ma non quanti il mercato si aspettava. Quindi, dato che devo scegliere azioni in un settore, le sceglie in un settore stabile, in un settore che regge, in un settore che sta in piedi bene, non vado a prendere un settore come la carne vegetale, che magari va, magari non va, ma è una scommessa che io non mi prendo. Se devo prendere, prendo un settore stabile, prendo un settore come quello dell'abbigliamento, prendo un settore magari come quello del food, vado a diversificare tra settori, ma tra settori stabili. Vado a prendere qualcosa magari nel settore energetico, cercando aziende non troppo rivoluzionarie, perché rischio di farmi male, in un dato che devo scegliere 10-15 titoli. Vado nel settore alimentare, quello è difficile che tutto il settore alimentare, un'azienda grossa nel settore alimentare, con vari brand, con varie tipologie di cibo, possa andare in grossa difficoltà, ma solo nel settore della carne vegetale, è un attimo che la gente dica, vabbè guarda, la carne vegetale fa lo stesso, non ci interessa, o ci interessa poco. E quindi fai fatica a fare 2-3 billion di utili netto. Questo è un po' il discorso. Poi dopo, ultima cosa a stare attenti, quando il titolo viene dimenticato dal mercato. Cioè, questo è un elemento interessante, perché ci sono alcuni titoli che presentano magari delle situazioni interessanti, ma il mercato ormai quei titoli lì se li ha dimenticati, nel senso sono titoli che hanno pochissima volatilità, quindi da guardare anche la volatilità del titolo. Nel momento in cui il mercato si dimentica di un titolo, lo vedete, che inizia a calare tanta la volatilità, allora se anche vi sembra interessante, ma c'è pochissima volatilità, è meglio evitare poca volatilità. Cosa voglio dire? Voglio dire che magari nel giro di un paio di settimane non c'è una crescita nemmeno di un 1-2%, no? Quindi magari potrebbe sembrare interessante, potrebbe essere un titolo che dici, vabbè guarda, a livello di struttura finanziaria è interessante, però il mercato quel titolo non se lo fila più. E quindi gli investitori non sono più disposti a metterci dei soldi. Questa situazione prima o poi si sblocca, prima o poi qualcuno se ne accorge se c'è o no un'occasione, ma il titolo rischia di rimanere fermo lì o oscillare in zone poco performanti per parecchi mesi, parecchi anni addirittura. Quindi è meglio prendere titoli conosciuti, a grossa capitalizzazione, qui torniamo sempre al discorso, capitalizzazione grossa, titoli che sono conosciuti ma che non sono troppo famosi. Questo è il discorso chiave, no? Esempio, un titolo come McDonald's, un titolo come Coca-Cola, un titolo come Microsoft, quelli sono titoli che vanno benissimo da valutare in ottica di lungo termine. Ma andare a cercare titoli in settori particolari o titoli che magari conoscete solo voi perché vi siete informati in modo troppo particolare, vedete che non c'è volatilità, meglio evitare potrebbero stare fermi in certe zone per molto molto tempo. Ora, visto quando non comprare, andiamo a vedere quando comprare, quali sono gli aspetti da tenere in considerazione. Allora, prima cosa, quando l'azienda è uno dei top 3 leader nel suo settore, non andare a prendere, almeno questo è quello che faccio io, non vado mai a selezionare aziende che non sono leader nel loro settore. Cioè, settore del beverage. Se mi vengono in mente i leader quali sono? Coca-Cola, Monster e Pepsi. Bene, questi tre sono i tre che posso mettere, no? Bevanda nel collo che vado a mettere magari questi tre. In questo settore, no? E vado a ragionare in questo modo. Perché devo sempre pensare quali sono i top 3 in quel settore. Non vado a prendere magari la quinta, la sesta, la settima. Uno, perché mi avvicino aziende a bassa capitalizzazione. Due, perché ci sono i leader del suo settore. Cioè, ci sono già dei leader. E per un'azienda non leader diventa molto difficile diventare leader. Perché il leader è più grosso, è più forte, potenzialmente può comprare il competitor. Quindi è sempre meglio andare a prendere aziende leader o nel top 3 leader nel suo settore. Non andare a prendere aziende piccole sperando chissà cosa perché è più facile che quelle aziende avranno molta più difficoltà a performare, a fare utili, ad apparire con forza sul mercato e ai consumatori. Quindi questa è la prima cosa a fare. Se è nei top 3 leader, voi guardate un attimo tutte le aziende di quel settore, se è nei top 3 diventa già interessante in ottica long term. Poi, seconda cosa, quando registra utili e fatturati positivi e crescenti negli ultimi 5 anni. Questo è molto importante. Bisogna cercare aziende che abbiano una struttura di utili e fatturati crescenti e positivi nell'ultimo 5 anni. Guardate Microsoft, bellissimo, no? Positivi e crescenti negli ultimi 5 anni. Ottimo. Allora, questo può essere un ottimo titolo in ottica di lungo termine. Coca-Cola, andiamo a vedere. Guardate, aspettate che appena me la apre. Coca-Cola, finanziari. Ecco qua. Andiamo a vedere. Anno su anno, anche qui. Fatturati, crescenti. Anno su anno, sempre positivi. Molto, molto bene. Questi sono titoli che mi piacciono. Aziende solide, aziende stabili, leader di mercato, già lì da molto tempo, che hanno passato varie situazioni macroeconomiche, varie situazioni aziendali. e allora noi prendiamo quella stabilità. Questo è quello che io faccio. Quindi, molto importante. Aziende come Tesla, magari, può essere interessante, però, se gli ho 5 anni di utili positivi, 1, 2, 3, 4, e qui era negativo, diamogli magari un anno in più, andiamo a vedere, non è abbastanza. Un anno in più, due anni in più, e poi si valuta se mettere nel lungo termine. In questo momento, però, un'azienda come Coca-Cola, come Microsoft, mi sembra molto più interessante di un'azienda come Tesla, in un portafoglio di lungo termine. Proprio perché hanno uno storico molto più lungo. Poi, ancora, in questo caso, quando presenta flussi di cassa di attività operativi crescenti anno su anno. Anche questo è molto importante. Torno a prendere Microsoft, non sto a soffermarmi troppo sul discorso, se andiamo a vedere anno su anno, cosa vedo? Flussi di cassa di attività operativi crescenti anno su anno. Molto bene. Vuol dire cosa? Vuol dire che l'azienda riesce a guadagnare sempre più soldi dal suo core business, che sta crescendo, guadagnando sempre più soldi dal core business. Questi sono dati positivi. Poi, può starci assolutamente una situazione di questo tipo, come ci può stare magari sugli utili, sui fatturati, un anno o due di lateralità. Ma l'importante è che non ci sia una fase decrescente o che non ci siano troppi sbalzi all'interno di questa struttura. Perché vorrebbe dire che il titolo potrebbe essere troppo ballerino e in un momento potrebbe accadere che i flussi di cassa si interrompino. E quindi il titolo scenda forte e velocemente in modo deciso. Poi dopo, Altra cosa da guardare, questo è importante, non la guardiamo troppo nelle titolate, ma è importante, quando i rapporti debiti su attività calano anno su anno. Questo è un ottimo segnale di un'azienda da comprare. Faccio un esempio, per non prendere sempre Microsoft, prendi in questo caso Coca-Cola, guardate, andiamo a vedere i rapporti debiti su attività. In particolare, quello che voglio mostrarvi, sono i debiti su attività, su patrimonio, su attività totali, e rapporto tra debiti a lungo termine e patrimonio netto totale. La riassumiamo come rapporto debiti su attività. Guardate anno su anno Coca-Cola cosa registra. Registra una situazione in cui i debiti su attività calano sempre di più. Questo è un segnale non positivo, di più. Perché, attenzione, un'azienda è giusto che si indebiti, se si indebitava bene, no? Ma il fatto che i debiti pesino sempre meno sul bilancio dell'azienda, sulla stabilità, sulla forza dell'azienda, è importantissimo. Perché dà più forza all'azienda, no? Se io ho, sì, dei debiti, i debiti me li prendo, ma le mie attività sono talmente grosse, no? Il mio patrimonio non è talmente grosso, che non pesi così tanto. Meno pesi su quello, meglio è per me. Perché l'azienda vuol dire che è più stabile, più sicuro, l'investimento è più sicuro. Quindi, attenzione, è anche questa cosa da controllare, da guardare. Su TradingView, vi dico solo dove sono andato, perché poi magari qualcuno è interessato, sezione statistiche, e si va giù nella parte proprio metrica di solvenza. Poi dopo, andiamo ancora oltre, e andiamo a vedere gli ultimi punti. Allora, quando comprare una volta, visto la parte di bilancio importante, andiamo a comprare questi titoli, magari i leader del suo settore, momenti di questo tipo, no? Utili e fatturati positivi, sono titoli comunque, tipo Microsoft, Coca-Cola, che presentano sempre situazioni di un certo tipo, di una certa importanza, anche da un punto di vista del pie. ad esempio, se vado a vedere Coca-Cola, in questo momento, il rapporto PE, vado a vederlo, che è 28, superiore a 25. Se vado a vederlo su Microsoft, in questo momento è 35 addirittura. Se vado a vederlo su McDonald's, è 25, 34, sopra 25. E allora, qual è il momento giusto? Dato che devo comprare nel lungo termine, e a me comprare, dato che lo devo tenere per 5-10 anni, comprare oggi, o comprare tra 6 mesi, un anno, non è un problema. Non è un problema. Devo solo comprare la cosa giusta. Allora, vanno comprati, quando si presentano crash di mercato, e gli investitori vanno nel panico. Questo è il momento in cui c'è da comprare. Se l'investitore va nel panico, se gli investitori vanno nel panico, quello è il momento giusto di comprare. Perché i titoli scendono, c'è un crash di mercato, magari una notizia, magari una cosa, c'è lo scoppio di questo conflitto, è successo che quello ha dichiarato qualcosa. I titoli scendono forte, benissimo. Allora si guarda, un attimo, guarda che il rapporto P.E. sta cambiando, guarda che sta andando sotto 25, guarda che forse, quello è il momento giusto di comprare. Quindi, quando si presentano questi crash di mercato, è un buon momento di comprare. Quindi, strutture interessanti, a volte li troviamo alti come P.E., ma questo è un buon momento, durante i crash di mercato. Altro momento, in cui mi piace molto comprare un titolo, in realtà questo è il mio momento preferito, e aspetto solo questo, anche se si verifica veramente, raramente, è quando il titolo crolla per notizie che non impattano il business. Ovvero, a volte ci sono delle notizie su un determinato titolo che possono portare il titolo a scendere con forza, a scendere velocemente. Me ne ricordo un paio, ad esempio, su McDonald's, era successo che avevano licenziato il CEO, un membro del CEO, per qualcosa che aveva fatto, non mi ricordo bene, e questo aveva fatto crollare il titolo a McDonald's, che aveva perso tantissimi punti. Questo crollo di tantissimi punti, in realtà, non ha pesato sul business di McDonald's, cioè tu mi cambi il CEO, un membro del Consiglio d'amministrazione, non è che McDonald's smette di vendere il panino, non è che, oh no, hanno cambiato il CEO, aspetta, non ci vado più al McDonald's, che cattivone, no? Ci vado lo stesso. Coca-Cola, era successo, non so se vi ricordate, in passato, quando Ronaldo aveva spostato la Coca-Cola, aveva detto, non bevete la Coca-Cola, bevete l'acqua, che aveva fatto quell'intervento, però fosse un europeo, un mondiale, non mi ricordo, Coca-Cola aveva perso tanti punti, quel giorno aveva fatto tipo un meno 7, meno 8, solo in pre-market. Quello era un regalo, grazie a Ronaldo, perché tanto, non è che non consumo più la Coca-Cola, non è che la gente non consuma più la Coca-Cola perché Ronaldo mi ha spostato la bottiglietta, no? Allora, l'investitore, qualcuno ha iniziato a vendere, un po' di panico, un po' di cose, il titolo è sceso, ma in realtà il titolo stava benissimo, continuava a fare utili e fatturati crescenti e un'azienda così non si ferma perché uno sposta una bottiglietta, no? Quindi, attenzione, quelli sono i momenti migliori, altri momenti migliori quando si iniziano a creare delle cause legali, anche se sulle cause legali bisogna stare un po' più attenti perché possono essere fasi molto lunghe, quindi bisogna aspettare che si chiuda la causa legale. All'interno di una causa legale è un titolo buono, può perdere molti punti e poi dopo, appena si chiude la causa legale che si è capito un po' quanto dovrà pagare l'azienda poi dopo il titolo riparte forte. Abbiamo visto 3M, esempio, un titolo su cui abbiamo analizzato parecchio, abbiamo visto la situazione studiata all'interno del canale e effettivamente avete visto poi dopo come un momento notizie impattano, non impattano il business, impattano qualcosa che riguarda il business, impattano l'azienda qualche multa da pagare qualcosa, però se il business va bene, il business è solido, l'azienda fa utili ai fatturati crescenti, allora poi dopo torna a risalire, quelli sono dei momenti incredibili, anche se molto rari da trovare. Infine, quando si verificano i bear market? Quando c'è un bear market, signori, quello è il momento migliore di comprare in generale. I crash possono essere veloci, possono anche mandare nel panico un investitore che aveva voglia di comprare, perché magari c'è tanta velocità dei movimenti, tanta volatilità. Quando ci sono notizie di questo tipo sono molto molto rare, ma signori, quando c'è il bear market c'è tutto il tempo di ragionare, c'è tutto il tempo di dire ok, è arrivato il bear market, tanto dura 7-8 mesi in media, abbiamo visto un anno, in quest'anno qui io ho il tempo di selezionare i miei titoli, cercare i rapporti più e migliori e poi andare a fare delle buone operazioni. Ad esempio, titolo assolutamente incredibile che nell'ultimo bear market siamo riusciti a prendere, sono riuscito a prendere, fatto performance clamorose, è stato Meta. Meta che durante l'ultimo bear market, signori, era sceso addirittura nel 2022 a 87, ora sta a 520, quindi numeri da giù di testa, avevamo segnalato proprio all'inizio del 2023, e poi avevo preso un po' più alto, avevo preso 110-120, però segnalato, perché l'azienda comunque aveva perso tanto, la situazione non era idillica, però appena ha iniziato a fare, poi dopo ha ricominciato a fare risultati interessanti a livello di azienda, quel bear market lì ha fatto crollare tantissimo un titolo che poi dopo, registrando trimestrali crescenti, risultati anno su anno migliori, poi dopo è tornata a fare bene. Quindi, attenzione, tenere monitorato anche questo che i bear market possono offrire delle grandissime situazioni, delle situazioni molto molto interessanti, no? Quindi, aveva fatto, proprio qui vedete, tra il 2022, un po' negativo, e poi dopo, aspettate che tolgo questa colonna, e poi dopo, no? Un po' negativo, ma comunque, era stato praticamente superiore al 2019, questo rallentamento, unito al bear market, aveva portato una grande occasione, e poi dopo, vedendo le trimestrali che pian piano tornano in positivo, il prezzo inizia a recuperare, quello era il momento perfetto di acquistare un buon titolo. durante i bear market ci sono tutte le situazioni per poter acquistare i bear market, si verificano, e questo significa che le condizioni per comprare poi dopo ci sono e si presentano e non bisogna avere fretta. Detto ciò, signori, per quanto riguarda il video di oggi su quando comprare un'azione e quando non comprare un'azione all'interno del portafoglio di lungo termine è effettivamente tutto. Se il video vi è piaciuto, come sempre, un bel like di supporto. Io vi ringrazio per la visualizzazione e noi ci vediamo qui sul canale.